sapete la prima cosa che penso quando vedo la dea sapete no provate indovenato no provate indovenato sapete cosa penso no no nili cicili 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 no no nemmeno come come danza il papo col pallone nemmeno quello sapete qual è io penso ma se l'atalanta segnasse la metà non dico tutte non dico tutte ma la metà delle occasioni che crea quanti gol farebbe a partita quanti quanti perché non è inutile girarci troppo attorno se vogliamo la lacuna una delle lacune di questa squadra è questa che concretizza poco anche oggi tante buone occasioni una clamorosa nel primo tempo ne abbiamo viste altre nel secondo tempo palle di gossens tiri belle anche l'ultimo per esempio di gym city però in base a quanto crea secondo me segna troppo poco e l'atalanta segna tantissimo questo è il paradosso ma ne segna poco in base secondo me l'occasione che crea segna poco poi quando becchi una partita in cui non crei tanto magari quanto le altre volte guarda caso perdi c'è sta squadra per portare a casa le vittorie ma deve macinare ma deve macinare ma deve macinare altrimenti non le porta a casa è paradossale ma a mio modo di vedere così poi c'è un giocatore su tutti che fa che fa la differenza e Gomez l'abbiamo visto entrato nel secondo tempo anche Ilicic per carità perché poi sono entrati entrambi nel secondo tempo ed è stata un'altra partita nel secondo tempo si è giocata una porta soltanto magari non con quell'intensità solita bisogna bisogna anche dirlo ma se è giocata da una porta solo nel secondo tempo e ripeto perché Ilicic è grandioso ma Gomez fa proprio da collante fa proprio da collante tra la difesa e l'attacco perché Gomez agisce nel campo a 360 gradi ed è importante è un giocatore importante ma non è l'unico per carità perché poi se vai a vedere anche se sporadicamente Muriel ti fa una giocata fantastica che lancia che la Giangossens e prende il palo lo stesso Ilicic fa delle cose bellissime Malinoski che è un sinistro sempre molto molto caldo i giocatori ci sono però oggi oggi la spunta la Fiorentina la spunta la Fiorentina che sarà il prossimo avversario dell'Inter si giocherà il 29 di gennaio quarta di finale e bene entrambe le squadre hanno pareggiato con noi uno a uno per cui per cui sono due squadre in cui nel girone d'andata noi non le abbiamo battute ed è una sfida interessante non lo nego rimarco sempre le qualità dell'Atalanta devo rimarcare devo rimarcare a questo punto e devo farlo veramente da amante di questo sport devo rimarcare la giocata di Purgare una giocata di una bellezza ma di una bellezza ma di una bellezza tale che mi fa innamorare che mi fa innamorare che mi fa gli occhi gli occhi a cuoricino perché ho fatto una giocata che vale che una giocata che vale la qualificazione quella giocata di Purgare che ti apre il gioco in quel modo con con una qualità immensa con i tempi e i modi giusti quella è la giocata che ti porta ai quarti di finale una giocata pa-u-ro-sa bellissimo andate a vedere il gol se non l'avete vista andate a vedere il gol perché quella giocata stiamo parlando del 2 a 1 ovviamente della giocata di Lirona quel gol vale la qualificazione quella giocata scusate quella giocata vale la qualificazione pa-u-ro-sa con i tempi e i modi giusti bellissimo bellissima stoccata bellissima mi ha ricordato Stankovic mi ha ricordato Stankovic faceva quelle aperture di collo con i tiri al volo mi ricordo che poi è un'apertura non è un tiro ma è un passaggio bellissima stupenda mi ha ricordato Stankovic bellissimo stupenda lo devo rimarcare molto bene anche Cutrone che è il solito mattatore il solito lottatore in campo lo vedete corre poi esordio da dio perché è subito in gol bravo da Albert nel primo tempo perché nel primo tempo la Fiorentina ha anche spinto un po' nel secondo ha giocato delle rimesse e comunque ha pagato è un gioco che poi ha pagato in termini realizzativi e niente poi tra l'altro una Fiorentina ha anche in dieci meritatamente e son contento ripeto quando vedo questi gesti che io definisco antisportivi qualcuno mi ha criticato sull'autario ma questi gesti io li definisco antisportivi perché vanno contro la sportività se va contro la sportività sono antisportivi gesto brutto anche quello di come si chiama il difensore la pezzella pezzella doveva essere già munito fai la pagliacciata di andare a simulare già munito fai la pagliacciata di andare a simulare te ne vai fuori bellissimo stupendo sono contento benissimo e quindi con una Fiorentina in dieci comunque ha trovato il 2-1 e la Fiorentina va in avanti questa è la realtà dei fatti bene anche Blauvic bene anche Blauvic è un giocatore che mi piace Blauvic lo stiamo dicendo io l'ho tra virgolette apprezzato contro l'Inter che ha fatto una grandissima giocata un gran gol ma è un bellissimo giocatore quando gioca la sua la sua la dice quindi attenzione perché la Fiorentina adesso ha dei bei giocatori lì davanti tralasciando Ribéry, Chiesa, Cutrone, Blauvic se non sbaglio c'è ancora Boateng la Fiorentina secondo me può esprimere di più di quello che sta facendo in classifica in campionato secondo me può fare di più vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate, likeate e perché no iscrivetevi al canale ciao a tutti Autore dei sorrisi